Riaperto da ieri il cantiere per la costruzione della cabina elettrica del centro Ostioni dell'ospedale Perrino di Brindisi che consentirà il completamento della ristrutturazione dell'intero reparto. I locali destinati alla cabina elettrica erano stati temporaneamente adebiti ad altri usi e liberati la settimana scorsa dal materiale dopo i numerosi solleciti della direzione sanitaria dell'ospedale. Dopo l'installazione della cabina elettrica, che avverrà presumibilmente in circa due mesi, si procederà a trasferire i decenti del reparto nella porzione già ristrutturata per poi avviare i lavori di adeguamento nella zona oggi utilizzata. Questo il contenuto di una nota dell'azienda sanitaria locale di Brindisi che finalmente è intervenuta a gambatesa per mettere fine a un vero e proprio scandalo. I lavori di cui parliamo infatti vanno avanti da ben 11 anni e hanno riguardato proprio uno dei reparti, il fiore e l'occhiello della sanità pubblica brindisina. Una serie di inspiegabili ritardi che meriterebbero ben altre attenzioni, non fosse altro perché in gioco e la salute di chi, in tutto il Mezzogiorno d'Italia, ha proprio Brindisi come punto di riferimento per la cura di grandi ostionati. Certo, adesso bisognerà verificare se il problema è stato effettivamente risolto e soprattutto bisognerà chiedere conto dei tempi necessari perché si possa portare a conclusione l'intera ristrutturazione per dare piena operatività alla divisione. Ma è evidente che il decisionismo mostrato in questa occasione rappresenta il piglio giusto per affrontare i problemi e per risolverli a beneficio della risposta complessiva che l'azienda sanitaria locale può fornire al bisogno di salute che viene pressante dal territorio. A questo risultato in ogni caso si è giunti anche grazie alle tante sollecitazioni e degli organi di informazione, così come di altre organizzazioni sindacali che hanno voluto portare il Centro Ostioni al centro delle attenzioni generali.